La Nicoletta è sempre stata una donna di carattere forte. Mi ricordo che quando eravamo piccoli, se c'era una lite, lei doveva sempre ristabilire la pace e sedare la discussione e prendere sempre le difese dei più deboli. Era nella sua indole essere generosi e pronte ad aiutare gli altri. Dopo la laurea decise quindi di intraprendere la carriera della polizia, anche se i miei genitori, in modo particolare mia madre, che non c'è più, non era molto contenta. Ma per la Nicoletta era il lavoro della sua vita, perché fare il poliziotto per lei era un lavoro nobile e rispecchiava i suoi ideali di solidarietà nei confronti dei più deboli, di tutelare i diritti e la libertà. Una volta entrata nella polizia ha lavorato in diverse città, prima a Imola, poi ha fatto il corso da ispettore, poi ha lavorato a Venezia, a Bologna e poi da ultimo in questura a Ravenna. Nella solena non aveva un carattere facile, era tutta da un pezzo. Se ti doveva dire qualcosa te lo diceva in faccia chiunque tu fossi. Ma chi l'ha conosciuta veramente sapeva che dietro a quell'aspetto burbero c'era una persona di gran cuore, sensibile alla sofferenza altrui, anche perché sapeva bene che cos'era il dolore. La polizia quindi è stata tutta la sua vita. Non era sposata, non aveva figli, anche se adorava i bambini, in modo particolare mio figlio. Spero che possa essere ricordata come una donna di Stato che credeva nelle istituzioni e nella giustizia e che ha reso onore alla divisa che ha portato fino alla fine.